Ciao, eccomi qui in un altro tempio. Sono sempre in Sri Lanka. Ha un nome impronunciabile, quindi non te lo ripeto. Questa zona è una zona molto ampia, dove ci sono reperti archeologici per chilometri per chilometri. Ci sono dei punti distanti da questo, anche 40 chilometri, quindi visiterò solo una parte di questo tempio. E ti farò sapere com'è, se ho sentito qualche vibrazione. Intanto ti faccio vedere la natura attorno. Siamo proprio... qui si vede poco, perché comunque siamo già nella zona dove ci sono le varie costruzioni. Comunque la natura attorno è molto molto rigogliosa, è piena di scimmie in questa zona. Ci sono anche dei bellissimi uccelli che sembrano degli aironi bianchi. E qui siamo nella zona del tempio. Ti faccio vedere, alla base della scalinata c'è un bellissimo basso rilievo. Sicuramente avrà dei significati a noi sconosciuti. Spero che tu lo possa vedere. E se ci saranno delle zone particolarmente interessanti, farò un altro video. Ciao! 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 Ciao!